Sempre più persone si trovano a combattere contro sintomi come stanchezza persistente, mal di gola costante, tosse stizzosa. Queste condizioni sta colpendo un numero sempre maggiore di individui, come dimostrano i recenti dati. Solo nell'ultima settimana ben 883 mila italiani sono stati costretti a letto da sintomi respiratori. Aumentano anche i casi di sindrome simili influenzali nel paese, secondo i bollettini della sorveglianza Respivirnet, nella cinquantesima settimana del 2023 l'incidenza di questa condizione è pari a 15,0 casi per mille assistiti. Questa tendenza è evidente in tutte le fasce d'età ma soprattutto nei bambini al di sotto dei 5 anni dove l'incidenza è di 38,0 casi per mille assistiti. Ed è proprio la Campania, la regione, dove si registra l'incidenza più alta in Italia relativamente alle sindrome simili influenzali. Nella nostra regione l'incidenza per mille assistiti raggiunge infatti il 31,56. A rendere la situazione ancora più complicata è il Covid. Nell'ultima settimana si sono registrate oltre 60.000 infezioni con un incremento del 7,2% rispetto alla settimana precedente. Tuttavia è importante sottolineare che il numero dei contagi è probabilmente sottostimato poiché comunicare la positività al tampone è quasi diventata un'eccezione. È quindi ragionevole supporre che combinando Covid e influenza il numero di italiani a letto nell'ultima settimana superi il milione. Sicuramente c'è un picco influenzale, quindi la prima cosa è sicuramente rivolgersi al proprio medico curante per valutare i sintomi e per valutare l'eventuale terapia. Per il resto rimanere in casa così come è sempre stato per quando ci sono delle influenze soprattutto con stati febbrili. C'è un picco in questo momento ma è un picco un po' in tutte le parti d'Italia quindi anche normale per il periodo. Ecco, il picco è nella normalità? Sì, normalmente il picco influenzale, al di là di quelle che sono state nei vari anni il Covid c'è sempre stato nel periodo che va da dicembre, gennaio, febbraio quindi magari talvolta si arriva un picco maggiormente al nord e poi scende al sud adesso sembra che sia un po' omogeneo su tutto il territorio nazionale. Chi ha preoccupazione che pensa a qualcos'altro deve rivolgersi al medico curante? Ma sì, è sempre fondamentale in presenza di sintomi influenzali, in presenza soprattutto di febbre di rivolgersi al medico e seguire le indicazioni del medico curante per la terapia da adottare e per le varie precauzioni. Una giusta preoccupazione? Preoccupazione è quando c'è uno stato influenzale in soggetti sani non deve destare particolare preoccupazione, sicuramente nei soggetti fragili è opportuno avere cautela ma ritengo che il primo passaggio fondamentale sia quello sempre, in qualsiasi caso, di rivolgersi al medico curante perché l'unico medico curante è a poter conoscere la storia di ciascun suo assistito e quindi di poter valutare quello che deve essere il percorso per uno stato influenzale da semplice o magari che possa avere delle complicazioni con dei stati febbrili.